Anche quest'anno Poste Italiane ha messo a disposizione la propria rete logistica per il consueto appuntamento natalizio della posta di Babbo Natale, un progetto dedicato a tutti i bambini. In pochi giorni sono state intercettate dai cosiddetti postini di Babbo Natale 180.000 letterine spedite anche dalla Sardegna, attraverso i 441 uffici postali della Sardegna e le 293 cassette rosse di impostazione presenti sul territorio regionale. Anche in un 2020 segnato dalla pandemia globale, l'azienda ha rinnovato il consueto appuntamento con la tradizione, raccogliendo le speranze e i desideri dei bambini espressi nelle loro missive, alle quali Santa Claus farà pervenire una risposta personalizzata. Moltissime le letterine con i riferimenti e pensieri dedicati all'emergenza sanitaria in corso. Poste Italiane quest'anno ha anche dedicato una sezione digitale sul sito www.lapostadibabbonatale.posteitaliane.it ed è possibile scaricare e stampare il foglio natalizio sul quale scrivere la letterina.